Tra gli anni 40 e 50 dello scorso secolo gli studi e l'intraprendenza di Ida Paolina Rolf, una delle prime donne medico ad insegnare in una università, portarono alla scoperta e la sperimentazione di una pratica olistica che adesso è considerata tra le più importanti. Ma in due parole, cos'è il rolfing e a che cosa serve? Il rolfing è un metodo di lavoro che mira a ristabilire equilibrio e armonia nel corpo umano. È importante che capiamo che per noi il corpo umano non è separato dal resto, cioè noi abbiamo un approccio molto olistico per cui il corpo, la psiche, l'anima per chi crede, per noi chi entra in questo studio entra come una persona e come tale viene trattata. Il rolfing lavora sulla postura. Cos'è la postura? Per noi la postura è la strategia che ognuno di noi incontra per interagire nell'ambiente circostante. Ci sono posture che ci aiutano e posture che ci aiutano meno. Una delle leggi principali dell'ambiente in cui interagiamo è la forza di gravità. Siamo sulla Terra, come qualunque altro oggetto, la forza di gravità ci attira verso il centro della Terra. E questa è stata la grande intuizione, una delle due grandi intuizioni della dottoressa Rolf. Veniamo a tratti verso il centro della Terra, quindi in qualche modo per stare seduti, per camminare, per muoverci, negoziamo perennemente con questa forza. La forza di gravità ci tira verso il basso e noi in qualche modo ci teniamo verticalmente verso l'alto. La forza di gravità può essere un elemento negativo contro il quale lottiamo perennemente con una perdita assicurata, perché la forza di gravità non sa neanche che esistiamo, mentre noi tutto il giorno siamo a reagire contro, oppure può essere un elemento positivo di aiuto nel nostro stare meglio. Perché? Il peso cade verso il basso, in accelerazione verso il basso. Se siamo in un allenamento corretto, ed ecco dove entra il rolfing del corpo, il peso scarica per terra ci ritorna, per la famosa legge che a ogni azione corrisponde a una reazione opposta e contraria, ci ritornano a propulsione verso l'alto. La forza di gravità ci tira giù e ci restituisce una spinta verso l'alto, da cui se c'è nel corpo umano un certo equilibrio e una postura funzionalmente corretta, invece di essere appesantiti, stanchi in permanenza, eccetera, eccetera, entriamo in una più ampia fluidità di movimento e quindi contro il peso la leggerezza. L'individuo quindi preso in esame in tutto il suo complesso. Certamente. Uno dei campi però principali e fondamentali su cui agisce il rolfing è il tessuto connettivo. Anche questa è una novità importante. Sì, questa è stata veramente l'altra grandissima intuizione della dottoressa Rolf. Pensi che ciò che lei ha cominciato a dire negli anni 30 è stato scientificamente provato cinque anni fa. Quindi una grande visioniare, veramente una pioniera di questa ricerca. Il tessuto connettivo, il mio fascia, sono stati sempre, come dire, un po' scartati dalla concezione anatomica ufficiale. Se lei vede un'immagine di anatomia qualunque, vedrà che sempre questi tessuti un po' trasparenti, chiari, vengono come recisi e spostati. Non interessavano. Invece la dottoressa Rolf ha capito l'importanza cruciale di questo tessuto in quanto capace di mantenere e ritornare un'enorme quantità di elasticità. Con gli ultimissimi studi, lei sa che con l'era dei computer e la concezione di anatomia c'è stata una vera rivoluzione a bordo. Prima si studiava l'anatomia su gente non in movimento, non in gravità, cioè su persone morte, su cadaveri. Oggi si studia su gente viva, con i sensori, e si è capito che per ottenere l'ottimale risultato di un movimento bisogna utilizzare meno del 30%, addirittura le ultime scuole parlano meno del 15% della contrazione muscolare. Quindi molto meno muscoli, molto più spazio a tessuti connettivi e la capacità dell'errolo ritorno elastico. Per intenderci, il tessuto connettivo ha una consistenza, ha presente il vischio, quello che si offre a capodanno, quelle palline con quella sostanza un po' mucillaginosa, tra il liquido e il solido. Più siamo in una situazione di rigidità, più siamo in una situazione di compressione a livello articolare, meno movimento, eccetera, più i tessuti tendono a irrigidirsi, a solidificarsi, fino ad arrivare a quello che si chiama l'artrosi. le formazioni di calcio. Proprio il tessuto che è elastico diventa sempre più duro fino a formare quelli che chiamano i beccucci ossi, via dicendo, le protrusioni. Più c'è elasticità dinamica in movimento, più questo tessuto tende al liquido. Quello che è innovativo nel tocco specifico del rolfing è che è stato proprio scientificamente provato con delle micro videocamere che sono state inserite dentro il corpo, è che in pochi minuti si riesce a ottenere un grandissimo passaggio dal quasi solido al quasi liquido. Una restituzione rapidissima di questo tessuto. Quindi come rolfer noi ci indirezziamo al tocco del tessuto connettivo. Prima di tornare proprio a questa parte più fisica dell'attività del rolfer, partiamo dall'inizio. L'attività del rolfer si esplica in dieci sedute. La prima però è soprattutto di conoscenza reciproca, di conoscenza soprattutto dell'individuo che può essere trattato. Sicuramente. Quando noi riceviamo una persona, intanto cominciamo sempre con un colloquio preliminare. Per noi è molto importante. È importante che la persona che ci cerca capisca profondamente e veramente quelli che sono i principi del rolfing. Noi diciamo sempre, il rolfing lo facciamo in due. Noi facciamo la nostra parte, abbiamo bisogno della risposta partecipe del cliente. Chiaramente osserviamo il cliente nel suo modo di tenersi, di muoversi, di atteggiarsi. Sin dalla prima seduta ci facciamo un'idea di cosa. Delle cose che funzionano meglio e delle cose che funzionano meno bene. Nel senso che noi non pensiamo che c'è una postura corretta ed una sbagliata. Per noi riceviamo la persona laddove si trova. Se la postura e la strategia che ognuno si trova per vivere nel proprio ambiente, quando la persona viene con il suo bagaglio di essere storto, di malessere, di comprensioni, comunque quella è la risposta che ha trovato e che è riuscito a portarlo fino a là. Per noi esistono posture più o meno funzionali. Funzionali a cosa? Al benessere della persona. Quando una persona comincia a soffrire, avere dolori ripetitivi, questa stanchezza cronica di cui molta gente si lamenta, evidentemente qualcosa non funziona bene. E là interviene Rolf. Ho sempre sofferto di mal di schiena, sottovalutati costantemente e continuamente. fino a quando, lo scorso gennaio, il mal di schiena è diventato predominante, incidendo fortemente su tutta la mia vita, nel senso di botto non ho più saputo camminare, addirittura, perché mi cedevano le gambe. E da una condizione di leggero malessere sono passato a una condizione di totale malessere. Quindi sono piombato a letto, sono rimasto a letto per quasi due mesi, senza muovermi. Ovviamente in questo percorso ho fatto tutte le terapie antidolore, quindi tantissimi farmaci, numerosissime visite, per capire un pochino cosa stava succedendo. Stava succedendo praticamente che il mio organismo stava scoppiando dall'interno, in pratica sono uscite delle ernie, tre ernie, due delle quali riducevano il canale midollare. Questo spiegava un po' il mio cedimento alle gambe. Cosa fare? Neurochirurgia, ma rischiosa, e il neurochirurgo stesso disapprovava un intervento perché da una parte è rischioso, dall'altra parte si sarebbe dovuto intervenire direttamente sulla colonna vertebrale, e di conseguenza era meglio vivere col dolore che rischiare complicazioni successive. Ovviamente la prospettiva di vita è stata un bel po' alterata perché l'obiettivo non era più stare bene ma ricominciare a soffrire meno. Fino a quando ho conosciuto, sono arrivato grazie in parte al mio capo, al lavoro, in parte tramite documentazione su internet, al rolfing, suggerito anche dal neurochirurgo. Il rolfing mi ha cambiato, nel senso che io sono passato per un periodo anche a fare uso di farmaci a base di oppio per limitare almeno la sensazione del dolore. Il giorno che arrivai qui avevo difficoltà anche a sedire la scala e dopo la prima seduta io sono tornato a casa a piedi tranquillamente, camminando, deambulando, quindi quello che per me diventava impossibile almeno quella piccola riduzione del dolore era avvenuta. Non sei ancora alla fine del percorso, ti mancano delle sedute. Cosa puoi dire comunque a distanza di 8-9 sedute? Che io ho vissuto e anche chi mi sta attorno a me sta vivendo un cambiamento strutturale. Cioè è una cosa che io stento anche a comprendere perché mi sento cambiato dall'interno, nel senso che non un cambiamento psichico, ma un cambiamento morfologico proprio della struttura del mio corpo. io la sento giornalmente cambiare, sento ricollocarsi i vari fasci muscolari e la cosa bella è che mi sia spento il dolore e continuo ad essere spento. Quindi mi sto a poco a poco riappropriando della mia vita e quindi sto bene. E sto bene, sì. Lavorando di più su cosa secondo te? Cioè sulla postura, sull'armonia totale del tuo corpo? Su cosa? Su tutto, nel senso il mio corpo sta diventando via via sempre più armonico. Ma l'armonia del corpo è dovuta perché sto ritrovando una sorta di equilibrio tra mente e corpo. Io avevo una mente staccata dal mio corpo e la percezione del mio corpo era ben lontana. Oggi sento il mio corpo e la cosa bella è che inizio a interagire con il resto del mondo. Nel senso che prima mi appoggiavo sul mio corpo per reggermi. Adesso mi appoggio sul resto del mondo per sorreggermi. Lavorare sul tessuto connettivo significa dunque agire con il tocco, quello che più imprecisamente, magari più banalmente definiamo massaggio, manipolazione del corpo e quindi si lavora sul lettino, come possiamo vedere. Sì, allora prima di rispondere in maniera precisa alla domanda ci tengo a specificare due cose. Noi evitiamo accuratamente sia la parola massaggio che la parola manipolazione. La parola massaggio perché definire Rolfi un massaggio sarebbe decisamente riduttivo. Noi lavoriamo sulla persona a un livello talmente profondo, sulla postura. Lavorare sulla postura significa creare un vero cambiamento non solo nella struttura corporea, nella sua dinamica, ma proprio nel modo di atteggiarsi della persona e quindi in un certo senso nel modo di vivere la propria vita. Per noi il massaggio è qualcosa che si occupa di un sintomo e allieva il sintomo. Noi non cerchiamo il sintomo, cerchiamo di individuare il problema. Per esempio, se qualcuno ha tensione alle spalle, noi non trattiamo le spalle, andiamo a guardare l'assetto dei piedi, come sono i suoi appoggi, perché se c'è un appoggio chiaro non abbiamo bisogno di tenerci. Se l'appoggio è poco chiaro, siamo costretti a tenerci. Quindi la ricerca del problema piuttosto che alleviare il sintomo. Non usiamo la parola manipolazione perché il senso del manipolare non ci piace. Ci piace il senso del tocco, dell'interagire, dell'educazione motoria, del percepire. E su questi livelli lavoriamo. Quando la persona viene, come dicevo, osserviamo la postura, poi la invitiamo ad accomodarsi sul lettino e comincia il lavoro proprio di tocco sulla struttura, indirizzandoci a mio fascia, cercando di togliere le tensioni e facendo sempre di più notare alla persona l'automatismo negli appoggi, nel respiro, nel modo di usare le braccia, nelle catene e diamo sempre più informazioni sulle possibilità più funzionali di coordinazione motoria. Come muoversi meglio, come respirare meglio, come camminare meglio, come usare meglio le nostre mani, che siamo neurochirurghi, che siano casalinghe, dentista, violinista, come possiamo usare al meglio il nostro strumento corpo. Rolfing dunque come condivisione di un percorso che abbiamo visto quindi non è soltanto un percorso fisico, ma anche e soprattutto un percorso mentale, comportamentale dunque. Sì, io direi che comportamentale è proprio la parola che coinvolge tutti i livelli, co, come corpo, comportamento, mentale, siamo un essere unico e come tale noi ci rivolgiamo alla persona cercando di far capire come usare e proprio dare gli strumenti. Io trovo che la cosa più speciale del metodo Rolfing sicuramente è quella per cui io l'ho scelto, ho scelto di farlo, di riceverlo, di diventare una Rolfing, e che diamo strumenti. La dottoressa Rolf diceva sempre che l'indipendenza è importantissima. Noi riceviamo una persona, la aiutiamo in un percorso, gli insegniamo delle cose e la salutiamo facendola andare via con una valigetta degli attrezzi. Cioè, insegniamo come stare seduto meglio. Oggi, per esempio, tutte le persone che lavorano ai computer, sempre di più, chiaramente sono quasi tutti arrivano da noi un po'. Ora, questa posizione porta alle ernie, alle protrusioni, ai dolori permanenti. Insegniamo loro come stare seduti in un altro modo, come mettersi davanti al computer in un altro modo, come usare il mouse in un altro modo. Diamo proprio lo strumento per vivere meglio la propria vita. Dunque, chiunque può approcciarsi a questa pratica. Questa è una cosa importantissima. Veramente, il Rolfing è per tutti. per i bambini, per gli adolescenti, per aiutare gli anziani nella fase della terza età, le difficoltà di questo periodo che è meraviglioso della vita ma necessita di più aiuto. Per le madri in postparto, per i professionisti, per gli sportivi, gli atleti, i musicisti. È decisamente una tecnica che va bene per tutti. Chi ha dolori, i dolori articolari, le cervicali, i dolori alla schiena, può sicuramente imparare a convivere meglio, a eliminarli. Dipende dalla gravità della patologia. Cerchiamo di dare veramente gli strumenti perché la gente cambia profondamente. Io proprio discutevo due giorni fa con un mio amico osteopata, bravissimo, di Catania, e lui mi diceva vengono da me, li sistemo, dopo sei mesi, ritornano, esattamente come erano prima. Perché sì, sistemare il problema patologico del momento aiuta, ma se non c'è un vero cambiamento nel modo di portarsi della vita dopo un certo tempo al primo momento difficile ci rinfiliamo in quella che era la postura che ha creato il problema. Quindi cambiare la postura significa aiutare a risolvere e a migliorare i problemi e a migliorare la nostra vita. a migliorare